No! Non mi avrete! Non avrete il mio culo! Avrò io il vostro! Sì! Salve a tutti ragazzi, sono sempre i menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui per la prima volta con Star Wars Battlefront, gioco uscito da un paio di giorni che mi attirava tantissimo e quindi ho deciso di acquistare la Day One perché è veramente, veramente molto voglioso soprattutto anche di giocare a qualche sparatutto. Avevo ripreso in mano Battlefield 4, Call of Duty, Advanced Warfare, avevo bisogno di uno sparatutto. Per fortuna è uscito Star Wars Battlefront. Ho fatto una ventina di partite ragazzi, sono al rango 8 se non sbaglio e posso anche già dirvi che è un gioco che mi sta piacendo tantissimo. Innanzitutto dovete lasciare tantissimi mi piace ragazzi perché questa serie si baserà soprattutto sul vostro sostegno. Se non vi piace la serie ragazzi purtroppo dovrò interromperla e cercare qualcos'altro che vi possa appunto attirare. Quindi ragazzi, spaccate il tasto dei mi piace perché così vi fate sentire. Cosa volevo fare ragazzi? C'è un trofeo, se non sbaglio oro, l'unico oro, ma non vorrei dire una cazzata, che è raggiungi il rango 50. Quindi ragazzi questa serie si chiamerà più o meno scalata al rango 50. Rango 50 Non perdetevi d'animo perché noi in questa serie proveremo tutte le modalità disponibili. L'importante è arrivare al rango 50. Io ragazzi direi che basta le chiacchiere ragazzi. Farò tantissimi video diversi su questo gioco e vi ricordo appunto lasciate un mi piace perché questa serie si basa tutta su di voi. Ok ragazzi, ci può incominciare questa supremacia come viene chiamata in Battlefront dove praticamente bisogna catturare varie zone della mappa. Andremo con calma perché ogni episodio comunque parleremo di varie modalità. Attenzione, prima kill ragazzi del gioco, del video, ce n'è subito un'altra ma purtroppo moriamo così distrutti. Ci saranno veramente tanti video diversi ragazzi, ci saranno funny moments, ci saranno le cose salienti, però attenzione. No, no, guarda che mi spara, guarda che mi ammazza, guarda che mi ammazza con la granata. Le granate qua sono distruttive ragazzi, comunque. Tutti qua eh, tutti qua mi raccomando così tiriamo una bella bomba. Oh, questo, 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 vabbè perfetto, andate. Fieri qua! Sei! Ti ho posseduto frate! No, no, boh, 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 nell'acqua! Nuota fratello! Senza, senza, senza farti domande. Oh Gesù, uno di vita! Che culo, qua siamo stati miracolati ragazzi. Tranquillo, tranquillo. Oh, guarda lì, guarda questo coglione che lo prendiamo da dietro. Mamma mia, ragazzi, sono delle bestie. Ecco che c'è il bombardamento nemico. Oh, 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 oh ragazzi, oh, oh ragazzi, no! No, no, te devi mu- No ragazzi, veramente, qua ho sbagliato, ho sbagliato io, però mi ero fatto prendere veramente dalla serie che stavo facendo. Incredibile fratelli, incredibile. Attenzione, qua almeno uno, dobbiamo farlo secco. Vedete che non riesco mai a beccarlo. Oh, eccolo lì! In testa, ragazzi! Colpo la, alla bitch! Occhio, occhio, testa sulle spu- Oh, madonna, cosa bello, cosa bello, cosa bello! Oh, santo cielo! Non lo prendo! Oddio, stai f- Ma guarda, caccia la sossa! Oddio, quanti sono! Oddio, headshot, signori, mamma! Butta la pasta! Oh, oh! Eh, eh, ero lì! Ero qui! Oddio, sono morto! No, guarda che mi ammazza! Prima che lo ammazzo io! Va bene, ci sta! Giusto, giusto! Siamo pari, fratello, siamo pari! Però adesso magari se ti ammazzo prima io di nuovo, eh? Non è una bruttissima cosa! Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno dal di dietro! Sì! Qualcuno l'ho preso! Occhio! Occhio! No, 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 questo non mi prende, ragazzi, eh! Occhio che arriva da dietro! Occhio che arriva! Minchia, io ho sparato in testa quello! No! Non mi avrete! Non avrete il mio culo! Avrò io il vostro! Sì! Forza, Ruggero! Perché Ruggero? Non lo so! Oh, si molla! Non si molla! Oddio, quanti! Raga! Sì, sì, sì! Ci penso io! Ho fatto una strage, ho fatto una strage! Non mi interessa come, perché qui ho beccato il loro spawn e ho fatto un macello divino proprio! Comunque un attimo che vado a raccogliere i funghi selvatici sulla luna, eh! Mortassima, dove cacchio sto andando? Oh, cacchi! Sì, sì, torno, torno! Comunque ragazzi, non so se l'avete notato, da qui non si nota! Perché sono andato a pascolare, praticamente! Veramente, con questa modalità, si viene immersi totalmente nella battaglia spaziale! Oddio! Bene, questo... Puoi entrare in controllo anche di questi bestioni, ma... Quando qualcuno lo sta guidando, sarebbe meglio... Starci un pelo lontano, ecco, sì! No, che è Luke Skywalker? Dark Fender! Dark Fender! Park... Gender! Transgender! Non sta andando malissimo, eh! Perché, come al solito, uccidiamo un sacco! Ma moriamo come degli stronzi ogni volta! Guarda che questo lo faccio secco con un colpo di cannone, proprio! Guarda lì! Boom! Oh! 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 Lo sto pigliando! Lo sto prendendo! L'ho ammazzato! E vai! Tanti faccio secco! Magari faccio secco pure... Eeeh! Shottato, ragazzi! C'ho paura, ragazzi! Chi è, oh? Chi è? Oh! Chi è? Chi è un vecchio? Chi è quello? Oddio, mi stanno venendo tutti in faccia! No, aspetta, detto così è proprio brutta! Oddio, ragazzi! Però è vero, mi stanno venendo tutti in faccia! Ci ha fatto una tripla così dal nulla! L'ultimo punto di controllo sarà presto in mano loro! 4 di fila, raga! 5! No! Buona, buona così! Buonissima sta serie! Proviamo a farci anche sto 24! Molto bene, molto bene! Occio! Pulcino Pio! Com'è possibile? Oddio, tutti in faccia! Tutti in faccia! Tutti in faccia! 20 secondi alla fine, ragazzi! Chissà se riusciremo a fare un'altra kill! O potremmo morire ancora un'altra volta! No! 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 Quasi una doppia invece! Se sto qua non metteva... È una doppia... È una... Un'uccisione con assist! No, ragazzi! Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Che finale incredibile! Uccisione con salto! Sconfitta, ci sta! Ma uccisione così con salto! Pazzesca! Proprio un finale egregio! Guardate quanti punti che ho fatto! 29 e 25, ragazzi! Direi che è andata benissimo! Vabbè, si può migliorare ovviamente! Però siamo arrivati quasi vicino al podio e non è andata assolutamente male dato che sono andato in positivo! Allora ragazzi, nei sotto dei commenti consigliatemi altre modalità se conoscete il gioco che volete vedere magari o anche se non lo conoscete! Magari che vi attirano dal nome! Così magari nel prossimo episodio scegliete voi cosa vedere! Potremmo anche pilotare già i cacciastellari! Ma comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto! Se non mi piace, commento, consiglio! Ne ci vediamo ad un prossimo video! Mi sono distrutto tutto quanto qui! Come sto? Sto bene lo stesso? Ne ci vediamo al prossimo video! Un saluto e un'altra prossima! Ciao a tutti ragazzi!